È un giallo? No, è un giallo. Aspetta. Non vedo le due ore. 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 Ah, aspettate, sì, esattamente. È diventato più chiaro, se aspettate. Ah, questo è aroncione. Sì, ci vediamo. Bravo. Mi senti un bel colore. Sì. Questo è blu. Bravo. Devi memorizzare il punto dove ci vedi. Questo è aroncione. No, aspetta, aspetta, aspetta. Bravo. Good that you have the patience. La volta diventa aroncione e la volta diventa blu. Questo è blu. Così blu. Così aroncione. Così aroncione. Ahah. Così blu. Così aroncione. Così aroncione. Stranna. Così blu. Così è blu. Così aroncione. È blu. È blu. È blu. È blu. È blu. Lo vedo poco però. even if it is little. If it's the correct color, then that's what we want. This is orange. This is yellow. Good, good, good. Again, enough. This? Very good. This? Oh my god, it's all nero. Ah, giallo. Bravo, very good. Rosso. Very good. Tutto nero, aspetta. Oh, ok, giallo. Very good. Now? Forse questo verde. Blu, blu. Very good. Very good. I told you I don't consider this a mistake. Ok. Now? No, 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 no. Non riesco a distinguere bene. Hmm, wait a little bit. What does it look like? Questo sembra azzurro, però un po' azzurro. Mi è arrivato un po' di azzurro, ma poco. Ah, it's not blue. No. It's orange. Aspetta, chiudo? Yes, 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 yes. It's orange. Again, find the channel. No. Ok, trovate. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Yeah, yeah, yeah. No problem. No. No. Take a break. Yes, yes. When you are ready, look for blue. Find blue anywhere in the mask. See which channel wants to see the blue. Try all of them. Take the channels one by one and see where you have blue. Where did you see the colours? Where are the papers? This is information. Wow. It does not matter where the information is. Wow. You can see it everywhere. There is, yeah. This is famous here today. Two people are invited, Madden, Madden, Madden to the Pac-10. Can you see the top 10-10? Look at the 12ids in the sechs room.